Primo giorno di scuola per gli studenti del secondo circolo didattico. Il nuovo anno scolastico per gli oltre 900 alunni iscritti è iniziato due giorni dopo rispetto alle altre scuole. Continua dunque il nostro viaggio nelle scuole cittadine, oggi tappa il secondo circolo didattico dove la dirigente Franca Campanella ha predisposto tutto per far sì che il nuovo anno inizi nel migliore dei modi nonostante i tanti problemi, in primis la carenza di organico sia dei collaboratori scolastici che dei docenti di sostegno e non solo. La scuola dell'infanzia è Angelo Campanella che non potrà assolutamente garantire il tempo normale perché avremo solo un collaboratore scolastico. Ho fatto delle richieste, ne continuerò a fare all'ufficio scolastico provinciale sperando intanto che mi ridiano e qua sotto al plesso Garuano abbiamo solo due bidelle a fronte di nuove sezioni di scuola dell'infanzia. È una situazione veramente assurda perché non ci consente di garantire quella sicurezza e quella igiene è indispensabile per una formazione corretta e integrale dei bambini. I problemi davvero di carattere importante sono quelli relativi all'organico del personale, dei docenti di sostegno. Anche qua abbiamo avuto una decurtazione di organico davvero assurda sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola elementare per cui questi bambini, soprattutto quelli che hanno l'articolo 3,3 che avrebbero diritto di avere il rapporto 1-1 dovranno accontentarsi di avere un rapporto 1 su 2 ed è una cosa gravissima in considerazione del fatto che abbiamo anche dei bambini che sono ipovedenti e quindi hanno bisogno assolutamente di avere un insegnante di sostegno vicino. Per quanto riguarda invece la logistica qualche problema? Di carattere strutturale abbiamo il problema delle aule che avrebbero dovuto essere un po' scerbate invece questo non si è verificato e tanti altri piccoli problemi che stiamo cercando di risolvere insieme all'amministrazione comunale.